Oggi dobbiamo festeggiare i primi meravigliosi 50 anni di mia moglie. Oh, datemi una moglie. Grazie, grazie. È un asteroide interstellare che dopo aver vagato per milioni di anni per la Via Lattea ha incontrato casualmente il Sistema Solare. Quanto è grande sto bosone? L'ultima volta si sono estinti i dinosauri. Un brindisi alla sincerità. Alla sincerità. Alla sincerità. Amo mio marito, però il primo amore è un'altra cosa. Per me Giulia è quello che nelle canzoni si dice amore. Io sapevo tutto di te quando ci siamo messi insieme. Non volevo sposare un toro, volevo un amico, che tu lo sei. Si ama una sola volta agli altri e si vuole bene. Ma perché la nostra storia è così? Perché cerchiamo l'intensità. C'è questo pietrone sulla testa qua. Non ci fa parlare. Ci avrei voluto vedere più mondo invece di finire tutti incazzati. Pensiamo di avere un tempo infinito. A un certo punto di colpo ci accorgiamo che non ce n'è più di tempo. Comunque se casca sto sasso risolve tutto, dai. No? Certo. Soprattutto se lo chiami sasso.